Partiamo allora dalla riete. Bella questa giornata soprattutto in campo affettivo, un invito insperato vi riempirà di gioia. Nel lavoro valutate bene le vostre possibilità prima di accettare un nuovo incarico molto ma molto impegnativo. Toro, avrete la possibilità di apprezzare un gesto di onestà del vostro partner e sarete molto contenti di averlo incontrato e di condividere il vostro quotidiano con questa persona. Gemelli, giornata molto positiva per il vostro segno, soprattutto se amate tentare la fortuna. In ambito lavorativo è possibile un accordo che prevede un'ottima remunerazione. Cancro, una problematica fra voi e il partner, creerà tensione nel rapporto e andrà risolta il prima possibile. Dovrete ridurre anche gli impegni se non vorrete ritrovarvi un sovraccarico difficile da smaltire. Leone, avrete la possibilità di concedervi una pausa insieme al partner. Il dialogo, molto importante, raggiungerà una fase armonica e potrete anche pianificare una breve vacanza rilassante. Vergine, avete bisogno di una fase di relax per scaricare le varie tensioni accumulate durante quest'ultimo periodo. In ambito lavorativo dovrete prendere una decisione che potrebbe comportare l'allontanamento da una persona a cui tenete. Bilancia, oggi sarete insofferenti verso alcuni atteggiamenti del partner. Malgrado tutto ciò il vostro rapporto prosegue abbastanza bene e senza ostacoli. Scorpione, in questa giornata dovrete essere molto riflessivi visti gli influssi astrali, ma soprattutto nelle decisioni da prendere con il partner. Nella professione tutto procede bene. Sagittario, vivrete una situazione imbarazzante e non saprete come uscirne. Cercate magari di essere evasivi. In ambito lavorativo riceverete degli inviti mondani che vi daranno ottime occasioni per emergere. Capricorno, in questa giornata avrete una proposta interessante riguardante il vostro lavoro. Cercate di valutare bene la situazione prima di dire di sì. In amore sono probabili dei pensieri negativi nei confronti del partner. Non c'è nulla di vero. Acquario, sarete presi dalla voglia di fare sul lavoro oggi. Avrete delle idee innovative e vorrete coinvolgere nel cambiamento le persone che vi circondano. Pesci, oggi in ambito affettivo sarete in grado di ribaltare una situazione a voi ostile e preparerete il terreno per affrontare un argomento importante col vostro partner. Almeno questa volta, siate decisi.